e sono qui per farvi un saluto da parte dei curatori dell'organizzazione insomma dell'intero festival e insomma è comunque un'emozione rivedere una edizione come questo pomeriggio che ricordo un po' l'edizione di Pordenone Legge pre-covid insomma fa bene al cuore diciamocelo e ovviamente sono qui principalmente per ringraziare lo sponsor che ha reso CV Bank e che ha reso possibile questo evento e soprattutto i due ospiti straordinari, due grandi scrittori di oggi che sono Edoardo Albinati e Walter Siti che invito a salire sul palco che ci parleranno di un tema così facilissimo che è perché la letteratura un tema tra l'altro che penso possa interessare molto se alcuni di voi a volte leggono dei romanzi che sembrano delle didascalie su cosa è giusto pensare ecco questo potrebbe essere un incontro che può dare qualche utile spunto. Ecco ringrazio ancora Edoardo Albinati e Walter Siti e grazie a tutti voi. Siti mi ha detto che devo cominciare io perché vigio sempre l'ordine alfabetico che mi perseguita dai tempi di scuola e lo farò dicendo che quando ci siamo incontrati poco fa abbiamo detto certo ci hanno dato un tema appunto storia del mondo parte prima perché la letteratura diciamo che forse il cosa è ci si può provare a dirlo già più difficile il come e il perché è una domanda metafisica a cui proveremo diciamo a non rispondere. Anche qui diciamo montalianamente forse sarebbe più facile dire cosa non è perché no perché è meglio non farla come farebbe forse un padre di famiglia il cui figlio dicesse voglio fare lo scrittore e diceva no studia fai l'ingegnere fai un'altra cosa e dunque questa domanda sembra assumere in sé varie altre domande cioè non solo perché la letteratura ma allora perché scriverla perché leggerla perché considerarla una cosa importante quando diciamo così sembrerebbe sia nella pratica del farla cioè lo scrivere sia nel leggerla un'attività secondaria in molti casi si potrebbe dire anche superfula perché ci sono molte persone che non scrivono e non leggono ma fanno una vita a mio avviso degna di essere vissuta ben degna di essere vissuta io sono particolarmente polemico devo dire con un mantra che si è diffuso negli ultimi tempi che se una persona non legge libri è squalificata insomma di serie B o che il leggere libri garantisca l'accesso a una superiorità morale o comunque a conoscenze che necessariamente migliorino l'esistenza di chi legge i libri mentre resta un po' legato romanticamente a una cosa che non esiste più cioè l'ignoranza non esiste quasi più la vera pura santa ignoranza perché diciamo così un qualche grado di acculturamento tutti ce l'hanno idea appunto che possa esistere una bontà una rettezza una grazia anche nel neanche nell'essere analfabeti vabbè posto che questo non esiste più neanche in cima una montagna almeno nei paesi occidentali allargherei la domanda e subito ne approfitto per passare al mio partner perché la cultura in generale insomma la letteratura è uno dei tanti ambiti secondo me sono tutti molto ben diversi l'uno dall'altro c'è un po' un'idea anche qui ingenua di pensare che le arti scrivere comporre musica dipingersi sempre la stessa cosa con mezzi diversi a mio avviso le arti sono tra loro concorrenti e anche in alcuni casi addirittura nemiche però mi chiedo allora se mai venisse chiesta un pittore perché la pittura o musicista perché la musica nessuno oserebbe fare questa domanda la quale domanda mi ha un po' ricordato un evento di tanti anni fa era il protagonista giampiero galeazzi alle prime armi forse la sua prima apparizione televisiva il quale andò a intervistare il grande tennista nero Arthur Ashe che aveva vinto vinse fu il primo nero a vincere un grande slam a vincere gli Australian Open US Open e gli chiese Mr. Ashe lo dico proprio come lo disse lui non sono io che non so l'inglese ma lui What do you think about tennis? Ashe che era un grande gentiluomo rimase un po' basito perché disse come faccio? cioè e rispose qualcosa tipo io lo pratico non saprei spiegare il perché o cosa sia il tennis ma è qualcosa che io faccio sì buonasera a tutti allora grazie 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 ma per tirarci fuori da questo da questo ginepraio io credo che bisogna andare un po' sullo specifico nel senso che ognuno di noi forse io di più perché ho fatto prima il critico letterario e poi ho fatto lo scrittore insomma ognuno di noi ha in testa diciamo così un'ideologia legata alla letteratura che dipende dai maestri che ha avuto dalle cose che ha letto quando era giovane eccetera eccetera e secondo me è anche bene dirlo esplicitarlo cioè credo che se tu lo chiedi a dieci scrittori diversi poi in realtà ti danno dieci risposte diverse perché ognuno di loro pensa la letteratura come è arrivato a pensarla in base appunto alla sua cultura quindi io dico la mia cioè qual è diciamo la formazione che ho avuto da questo punto di vista di fronte a una domanda come appunto perché la letteratura la prima cosa che mi viene in mente è per la stessa ragione per la quale si sogna e sappiamo che effettivamente quando uno viene tenuto sveglio molto a lungo deperisce moltissimo non tanto perché non dorme ma perché non sogna e quindi come dire c'è proprio una necessità fisiologica nel sognare il mio maestro di letteratura quando ho studiato molti molti anni fa a Pisa era Francesco Orlando Francesco Orlando come dire ha molto elaborato questa idea del rapporto che ci può essere tra i sogni e la letteratura nel senso che mentre fino a quel momento applicare la psicanalisi della letteratura significava andare a vedere quali erano i complessi che stavano nell'inconscio di un autore e quindi andare a curiosare diciamo nella sua vita privata eccetera eccetera Francesco Orlando ha fatto invece una cosa diversa cioè ha provato a vedere da un punto di vista formale quali fossero i punti di contatto partendo da una cosa famosa di Freud che non c'entrava appunto con i contenuti inconsci non c'entrava con i falli, le vagine eccetera ma era appunto una cosa formale in una cosa che Freud racconta di un suo paziente questo paziente a un certo punto racconta una storia dove c'era una donna che aveva un ruolo molto importante in quel sogno Freud gli chiede chi è questa donna, che cosa le fa venire in mente e il paziente risponde veramente non lo so, non saprei dirglielo l'unica cosa che so di sicuro è che non era mia madre e naturalmente Freud dice beh parliamone insomma è evidente che allora la madre c'entra in qualche maniera e da questo Freud elabora questo concetto che poi è diventato famosissimo della negazione freudiana cioè si nega una cosa perché in realtà hai voglia di dirla ci sono delle censure interne che ti impediscono di dirlo e allora ci metti un no davanti e la dici lo stesso senza dirla cioè la dici negandola e poi ha elaborato moltissimo questa cosa in vari modi per cui si può anche far emergere qualche cosa che il tuo inconscio vuole censurare qualcosa dell'inconscio che ti vuoi censurare non soltanto mettendoci il no davanti ma si può dire per esempio non so era mia zia invece che dire era mia madre cioè spostando le cose il resto lo fa Freud stesso in uno dei suoi casi quando parla della violenza commessa su una ragazza attribuendola allo zio quando nella realtà era il padre esattamente oppure invece di dire ti amo si può dire ti odio allora io penso anche per quello che ho pensato dopo diciamo non soltanto per quello che ho imparato all'università penso che in effetti la letteratura abbia questa caratteristica cioè che è un'enorme trappola di parole certe volte molto complicata naturalmente perché una cosa è dire non era mia madre una cosa è scrivere ai fratelli Karamazov o guerra e pace che quindi ha molto controllo cosciente da parte dello scrittore ma che ha anche nel fondo la possibilità di far emergere delle cose che stanno nell'inconscio dello scrittore e che in chi legge ha la possibilità di far emergere delle cose che stanno nell'inconscio di chi legge non necessariamente delle stesse l'importante è che questa trappola di parole sia abbastanza come dire astuta per funzionare e quindi per superare appunto vari livelli di censura che possono essere politici possono essere privati legati alla storia personale di ciascuno di noi eccetera eccetera allora se questo fosse vero è come se la letteratura fosse un po' diciamo lo strumento per far venire fuori l'inconscio del mondo l'inconscio sociale insomma l'inconscio di tutti non soltanto quello dell'autore tant'è vero che poi appunto ed è un modo come dire non soltanto legato appunto a quando tu non sei consapevole di te stesso ma diventa un equilibrio che ciascuno di noi credo provando nel suo piccolo a scrivere ha provato tra consapevolezza e inconsapevolezza in realtà se tu scrivi un romanzo per la poesia ancora peggio credo cioè meglio se tu scrivi un romanzo e ti viene fuori esattamente quello che avevi programmato all'inizio vuol dire che il romanzo non ha funzionato perché evidentemente ci sono sempre dei momenti in cui o un personaggio prende lui in mano la situazione vuole andare da qualche parte ti interrompo brevemente solo per dire che uno dei commenti più negativi che mi fu fatto da un grande scrittore italiano a proposito di un mio libro fu nel libro c'è esattamente quello che ci hai messo esattamente questo credo che sia davvero un po' uno dei segreti della letteratura cioè che devi porti in ascolto nel momento in cui scrivi porti in ascolto di parole che non sempre sei tu a decidere ed è quello che i poeti hanno sempre detto nel corso della storia l'hanno chiamato musa l'hanno chiamato il dittatore che bisogna seguire come diceva Dante fino ai tempi nostri Amelia Rosselli diceva in una notte posso anche scrivere otto dieci poesie la mattina tengo quelle che non capisco perché effettivamente evidentemente lì ha lavorato qualcosa diciamo allora per esempio partendo da questo punto di vista dire perché la letteratura è come dire perché abbiamo bisogno di spurgare le cose che abbiamo man mano ripresso o rimosso sia rimosso appunto in senso proprio dell'inconscio sia ripresso cioè quando in un certo luogo la repressione anche pubblica diventa molto forte la letteratura è uno dei sistemi per aggirare le censure come hanno fatto gli illuministi per tanto tempo quindi lo puoi fare anche in un modo molto consapevole dipende appunto se la cosa che vuoi far emergere è una cosa apertamente repressa in modo che tutti lo possono vedere come succede che ne so adesso o invece è qualche cosa che tu stesso non sai ed è per questo che mi fa rabbia quando la letteratura viene usata come un altoparlante per diffondere come dire delle idee che tu hai già perché allora è come se questa funzione della letteratura di andare a trovare quello che tu non sai ancora tu la la umiliassi e la deprimessi diciamo quindi la prima risposta che io proverei a dare darne di un po' più scendendone nel particolare però la prima risposta che proverei a dare è proprio questa cioè si scrive letteratura ma non io o lui o le persone così poi dopo mi piacerebbe parlare anche del perché un ragazzo adesso scrive letteratura ma in generale si scrive letteratura nel mondo perché il mondo è oberato dalle repressioni e dalle rimozioni e la letteratura ti serve per toglierle io ho un po' un problema con siti che cosa che mi succede così di rado da diventare un problema è che sono più d'accordo con lui e siccome normalmente le mie idee si creano per contrasto e non per accordo ecco che dopo che ha parlato lui io tenderei a continuare ad ascoltarlo e siccome quando si formano queste coppie improvvisate diciamo per per questo genere di cose io finisco sempre per adattarmi molto all'altro cioè se l'altro è simpatico io divento antipatico se l'altro è antipatico io faccio il simpaticone e così via siccome lui è molto dotto io adesso dovrò fare invece un po' l'ignorante per un gioco di ruolo e quindi andare sull'autobiografico l'ignorante insomma l'ingenuo l'ingenuo e dire invece più diciamo in modo più terra terra le ragioni per cui a me personalmente la letteratura è stata utile soprattutto quando ero ragazzino quando ero io sono stato un grandissimo lettore soprattutto tra i dieci e sedici anni poi ho perso un po' colpi ma insomma in quelle forse gli otto e i sedici anni proprio quindi da bambino e poi da giovanissimo adolescente e il perché diciamo leggere in questo caso era molto semplicemente dovuto al desiderio di ampliare la mia vita di vivere per interposta persona per poter accumulare esperienze che nell'ambito piuttosto ristretto della vita di ciascuno di noi non possono essere fatte sia nello spazio che nel tempo quindi sia ambienti storie personaggi che si svolgono in altre parti del mondo oppure storie che si svolgono in altri tempi non per fare la solita diciamo lista dei tre moschettieri piuttosto che dell'isola del tesoro o dei romanzi di Salgari beh questa era la principale ragione per cui la letteratura mi sembrava una ciambella di salvataggio e soprattutto la possibilità di arricchimento di una vita che altrimenti sarebbe stata in grande misura spesa in una cameretta cioè qualcosa che tu potevi fare nella cameretta uscendo dalla cameretta scusa se adesso ti interrompo io questo è verissimo nel senso che certo la letteratura soprattutto quando non la fai ma la leggi quindi quando sei lettore più che quando sei scrittore è come se ti dessi dei mondi alternativi e quindi ti amplia la vita diciamo è una cosa che sicuramente è verissima l'unica obiezione che farei è però per fare questo forse funzionerebbe anche un ottimo reportage giornalistico ah ma infatti non li escludo non necessariamente non escludo il cinema non escludo i figli un'altra maniera forse ancora più abbordabile fondamentale della formazione ecco tu parli della tua formazione universitaria io la mia formazione per quanto abbia fatto l'università in modo piuttosto disordinato è invece quasi tutta diciamo da autodidatta sia nella famosa cameretta sia poi nelle salette dei cine club dell'epoca sia nei concerti rock, pop e compagnia bella sto facendo abbastanza bene no? questa divisione di ruoli non ho mai saputo cosa fosse vedi appunto una volta lui mi ha scritto che attraverso il mio libro lui aveva capito cos'era l'adolescenza quindi mi ho detto pensavo che ne sapessi qualcosa anche tu allora io faccio adesso l'adolescente e anche un po' l'eterosessualità vabbè grazie anche questo pensavo che io più o meno so cosa sia l'omosessualità invece tu fino ad aver letto un mio libro ignoravi cosa fosse l'eterosessualità e questo sono passi avanti importanti da fare anche a una certa età insomma non è mai troppo tardi per scoprire questo io invidio sempre una signora la madre di un mio amico una vecchia signora cilena che aveva letto Candide di Volterra a 84 anni pensa che bello cioè scoprire ancora essendo abbastanza anziani definitivamente ho anche una mia una mia collega una cosa indiavolata con un ritmo velocissimo quindi la signora era ancora in pace no no infatti lei si è probabilmente accampato ancora di più grazie a quella lettura come invidio una professoressa una mia collega di scuola professoressa di inglese che ha viaggiato molto nel mondo è stata in Australia e non è mai stata a Venezia ancora dico è bello ancora poter compiere esperienze così clamorose che uno darebbe compiute una volta per tutte comunque questo fatto dell'ampliamento è anche per me in buona misura la possibilità che noi abbiamo e che adesso mi sembra venga sempre più ristretta a causa di questo mito nefasto del dover essere se stessi come se l'essere se stessi sia una buona cosa chi l'ha detto molte persone farebbero meglio a non essere me compreso a non essere loro stessi o il meno possibile o il meno possibile ecco la letteratura è il modo migliore per non essere se stessi o per essere una moltitudine cosa che come dice anche la voce demoniaca nella storia del posseduto nell'Evangelo e anche può essere terribile perché l'essere siamo legione siamo legione insomma è inquietante lo dice al singolare il mio nome è legione questo l'ho ricordato in questo ultimo libretto che ho scritto perché secondo me in maniera inavvertita poi l'hanno corretto c'è stato qualche mese fa uno spot della chiesa cattolica per il 5 per 1000 dove c'erano queste persone che si avvicendavano sullo schermo quasi tutti dei bisognosi vecchi migranti malati bambini che che parlavano e alla fine parlavano tutti insieme cioè con una con una specie di strano miscuglio di voci che mi ha ricordato proprio quello dell'esorcista cioè quando dalla bocca di Reagan escono fuori voci diverse per cui queste voci discordanti e torniamo al discorso che mica è detto che leggendo libri si si migliori può anche portare moltissima confusione nel Don Quixote la prima mossa che fanno per curare questo povero questo povero uomo malato di romanzi cavallereschi che è il curato e il barbiere è che gli murano la biblioteca perché ho detto questo a forza di leggere libri è andato fuori di testa però al tempo stesso questo andare fuori di testa è arricchimento quindi tra l'altro questa cosa di Don Quixote è una specie di replica buffa di quello che fa Sant'Ignazio davvero Sant'Ignazio si converte perché lo feriscono va in un posto e chiede dei libri da leggere loro gli dicono non ce li abbiamo abbiamo soltanto vite dei santi e lui dice vabbè in mancanza di meglio datemi quelle e a forza di leggere vite dei santi dice vabbè se l'ha fatto San Francesco perché non lo posso fare io se l'ha fatto San Domenico perché non lo posso fare io solo che lui lo fa senza diventare matto e fondando appunto la compagnia di Gesù Don Quixote fa la stessa cosa ma appunto diventa pazzo quindi la letteratura può fare tutte e due le cose può incitare dati eroici oppure a effetti imprevedibili a effetti collaterali ecco come sarebbe in un bugiardino esattamente e come nei bugiardini gli effetti collaterali sono lunghi meglio non leggere infatti tu parlavi della formazione è curioso ma mentre tu sottolineavi penso che siano vere tutte e due le cose appunto però tu sottolineavi il fatto che leggendo letteratura ampli appunto il tuo orizzonte no ed è una cosa assolutamente primitiva quella lì che davvero non c'entra niente col discorso che ho fatto prima sull'inconscio semplicemente una voglia di conoscere quello che sta fuori fuori dal suo raggio di esperienza non so se sei stato mai a Marrakesh nella piazza di Jamal Fna ancora adesso almeno quando sono stato io dieci anni fa c'erano delle persone che parlavano in arabo quindi non capivo però disegnavano addirittura per terra i viaggi che avevano fatto raccontando episodi buffi la gente rideva come matti eccetera eccetera e ci andavano le persone molto semplici probabilmente anche analfabete o poco alfabetizzate perché è come se quello ti portasse il mondo in casa ti raccontava un viaggio una storia che per te ti allargava enormemente gli orizzonti quello che fa Ulisse quello che fa che fanno appunto nelle Mille e una notte eccetera io ho un'esperienza contraria invece come inizio diciamo della mia esperienza di lettore anche perché è stata molto deturpata dal fatto che non ci fossero libri se non casuali a casa mia e quindi io a nove anni ho letto la metamorfosi di Kafka perché l'aveva lasciata lì un mio cugino ed è stato terrificante nel senso che per giorni e giorni io mi svegliavo la notte pensando a questo insettone enorme che stava sopra il mio letto eccetera poi siccome ho una sorella di dieci anni più piccola quando invece avevo diciotto vent'anni ho cominciato a leggere pattini d'argento piccole donne e tutte queste cose quindi insomma ho avuto abbiamo una formazione comune perché anch'io per me piccole donne è stato il libro fondamentale per me è stato la lettura da adulto mentre quella dell'infanzia è stata la metamorfosi di Kafka e quindi l'idea della letteratura è soprattutto come di uno shock cioè la letteratura è una cosa che ti spaventa come prima cosa ti spaventa prima parlavo del fatto che bisogna porsi in ascolto e torno più sul lato dello scrittore che su quello del lettore lo scrittore deve a un certo punto crearsi abbastanza vuoto intorno e abbastanza silenzio per potersi porre in ascolto silenzio dentro di sé soprattutto per fare questo però io credo che è necessario porre una specie di diaframma tra te e tutto il resto del mondo cioè ti devi isolare devi fare in modo che almeno per me è stato così cioè che tu vedi tutto il resto del mondo come attraverso un vetro cioè tu sei qui e gli altri stanno dall'altra parte per cui per me la letteratura finalmente qualcosa con cui non sono d'accordo per niente per me la letteratura invece è anche anche questo cioè la misurazione di una distanza o se vuoi la confessione di un'impotenza di una di un non potere catturare il mondo io ho sempre pensato agli scrittori sarà perché ho studiato Pasolini per tanti anni e Pasolini era per eccellenza questo ho sempre pensato lo scrittore come qualcuno che vede il mondo passargli davanti non lo sa afferrare non lo sa prendere se uno vive felice non ha nessun bisogno di scrivere letteratura e quindi usa le parole Pasolini poi ha usato anche la macchina da presa dopo per catturare il mondo che invece sta fuori di lui e che lui in qualche modo invidia e dove vorrebbe essere dentro diciamo così cioè io penso che lo scrittore sia uno che non sapendo vivere usa la letteratura come un surrogato questo che hai detto dopo già mi ha riportato vicino per cui ho perso la verve polemica subito che volevo utilizzare per dire che no quello si deve isolare ecco no quello no quello dell'isolamento no perché non è che si deve isolare sono molto più d'accordo sul fatto che è già isolato sì allora se è così sì è vero appunto questa idea di vedere la vita e non riuscire completamente a viverla lì mi sono perfettamente d'accordo per cui anche l'attività di scrivere ha un carattere in buona misura di surrogato una cosa essere come i supplenti di se stessi della vita mancata sull'impotenza io sono molto molto vicino a quello che tu dici ma intesa nel senso che essendo impotente diventi permeabile essendo diventi vorace diventi vorace e diventi e qui voglio introdurre questa parola che per me è fondamentale come postura della scrittura non tanto l'isolamento alla distanza quanto la passività penso che uno scrittore non debba perché se dico che deve allora già è una forzatura ma che lo scrittore sia passivo rispetto al mondo sia penetrato trafitto quindi questo vetro in realtà non solo non ti permette di accedere all'esterno ma al contrario funziona invece fa entrare fa penetrare tutti gli stimoli tanto da esserne letteralmente trafitto io questo da sempre ho avuto una anche paura dell'eccesso di stimoli che provengono dal mondo esterno a cominciare dalle parole ascoltate più ancora che da quelle lette io anche girando oggi ieri pomeriggio e oggi Pordenone io mi sento come come uno schizofrenico che ha le voci in testa non sono le mie sono quelle degli altri ma entrano tutte creando ma io me le appunto addirittura quello sarebbe il sistema un po' per esorcizzarle però non puoi stare sempre lì anche perché ricordo un raccontino molto divertente di Norman Mailer di uno che lasciava la sua ragazza e lei gli diceva delle cose e lui cominciava ad appuntarsele e lei si arrabbiava sempre di più perché dice ma come io ti lascio perché tu pensi soltanto alla letteratura e intanto lui scrive lei lo lascia perché lui pensa solo e quindi causando ancora più rabbia che tra l'altro è la cosa che fanno gli psicanalisti cioè tu dici lasci libera la mente cosa le viene in mente mi viene in mente che mentre lei sta a perdere tempo con me sua moglie intanto si fa sbattere dall'idraulico e lui scrive mentre lui perdo tempo con lui mia moglie intanto si fa sbattere cioè fa esattamente questo questo lo fanno i pazienti provocatori che vogliono mettere alla prova il loro no ma proprio lo psicanalista invece fa questo cioè scrive in diretta quello che tu gli dici però in cambio di 80 euro l'ora quindi insomma c'è una una remunerazione a questa pazienza o a questa no però è vero scusa che certe volte almeno a me capita così se devi descrivere un personaggio e provi a girarci intorno a fare prima un ritratto fisico e poi provi a fare un ritratto morale eccetera eccetera se invece a un certo punto il personaggio che magari tu hai preso come modello reale per quello che poi diventerà il tuo personaggio fittizio butta lì una frase e tu capisci che in quella frase lì c'è già la chiave del personaggio ti serve molto di più mettere tra virgolette quella frase che fare dieci righe di descrizione questo è vero e mi porta a una considerazione adesso stiamo precipitando nel corso di scrittura una considerazione sul fatto dell'inutilità è utile ma poi non finirà quasi mai dentro il libro l'accumulo infinito di appunti sulla trama sui personaggi perché poi alla fine tutta questa roba quasi mai finisce dentro il libro è come questa specie di allenamento addestramento che però poi se non porta a quella cosa che dicevi te cioè a trovare la cosa che riassume e cancella ecco un'altra ecco introduco con una parola anche questa spero che stupisca un poco perché è un po' in controtendenza con l'idea adesso molto diffusa che la letteratura serva a ricordare serva come memoria una specie di anche obbligo alla memoria quando invece a mio avviso sia questo devo dire che ci sono poche cose che uno scrittore e un lettore hanno in comune ma questa è una di quelle cose il fatto che serve invece a cancellare o meglio a conoscere a attraversare e quindi lasciarsi alle spalle questo è ovvio per chi scrive che sfoga diciamo scarica deposita qualcosa che evidentemente gli pesava dentro ma secondo me è anche molto vero per il lettore quindi quando un lettore a partire da me stesso ma anche lo sento spesso dire ah non mi ricordo più niente di quel libro dico non è non è sbagliato anzi anzi è una sua funzione quella dell'oblio l'oblio purtroppo viene oggi molto stigmatizzato in favore diciamo nelle campagne pubblicità progresso viene svalutato nei confronti della memoria cioè la memoria è buona l'oblio è cattivo non è vero perché pensa l'orrore di non poter mai esercitare l'oblio nella nostra vita o nelle cose che abbiamo cioè invece continuamente lasciarsi alle spalle le cose penso che ci siano però due livelli diversi almeno nella mia esperienza cioè ci sono dei libri che tu leggi e che dopo non ti ricordi perché effettivamente non c'era niente di memorabile e ci sono invece dei libri penso che i libri pessimi mi ricordo benissimo e invece ci sono dei libri non so a me mi succede con Dostoevsky con i classici di cui tu non ricordi la trama cioè se mi dovessero dire racconta precisamente la trama dei demoni in questo momento io non la saprei sai che si dice demoni sì lo so che si dice demoni però ho detto demoni per tutta la vita ma è stato rimproverato perché sono essendo i diavoli lo so sono i demoni scusa non volevo fare io il professore lo so lo so se leggo i demoni e non mi ricordo esattamente la frase però però ci sono alcune scene appunto la bambina il ragnetto rosso e quelle cose lì che mi sono talmente entrate dentro che davvero allora lì è vera la cosa che tu dici cioè me ne sono liberato perché ci ha pensato lui non so come dire e quindi è come se beh c'è una riconoscenza infatti assolutamente io provo moltissima riconoscenza verso verso degli scrittori alcuni scrittori alcuni libri perché in effetti scusate siccome vedo però che manca un quarto d'ora non molto di più alla fine volevo però parlare di una cosa perché penso che c'entri con il perché la letteratura cioè volevo parlare del dei giovani io da alcuni anni appunto faccio delle lezioni per così dire a una scuola di scrittura che non sono però le lezioni del tipo appunto come si fa un racconto ma semplicemente mi danno degli abbozzi di lavoro che loro fanno e poi per due o tre mesi proviamo a portarli avanti insieme a loro per farli diventare qualche cosa che potrebbe essere un racconto o qualcosa del genere quindi lavoriamo proprio già su delle loro proposte quando però io gli dico il che cosa vuoi raccontare mi è chiaro perché mi hai dato queste pagine il come adesso lo vediamo insomma fermo restando che il talento non si può insegnare quindi capisce benissimo che quelli bravi vengono lì nonostante le tue lezioni diventeranno degli scrittori nonostante le tue lezioni non a causa delle tue lezioni però invece la cosa una cosa su cui non avete mai riflettuto è il perché e loro vedo che effettivamente per la maggior parte in questo momento la risposta che gli viene più immediata è per essere chiamato scrittore cioè è come se in questo momento si parlava prima con Edoardo lo diceva una volta non era così probabilmente una volta non era così nel senso che anzi faccio lo scrittore sembrava una roba un po' da sfigati adesso credo che avere una definizione di questo tipo quando hai vent'anni cioè tu che cosa fai nella vita io faccio lo scrittore sono stato riconosciuto come scrittore hanno pubblicato una cosa mia è effettivamente una definizione di sé che in questo momento attrae attrae molto i ragazzi e le ragazze e quindi qual è il corrispettivo negativo che avendo questo come obiettivo pensano di dover scrivere delle cose che vanno adesso cioè delle cose per le quali è immediatamente evidente che tu diventeresti uno scrittore non so come dire e una delle cose più interessanti che accadono nel processo di approfondimento è proprio che tu a un certo punto aiuti questo ragazzo o questa ragazza a smontare questa idea e a trovare un altro perché l'anno scorso che si faceva tutto a distanza quindi il rapporto personale era anche più difficile però c'è stata una delle cose che mi hanno dato più più gioia più divertimento insomma una ragazza è venuta dopo aver fatto una tesi di laurea una specialistica in fotografia sul suo paese natale che era un paesino delle Marche e aveva accompagnato queste fotografie con delle didascalie e diceva vorrei far diventare queste didascalie un romanzo ed erano le didascalie che ricordavano la sua famiglia sei o sette generazioni della sua famiglia dalla bisnonna eccetera tutte donne la bisnonna la nonna la zia eccetera perché gli uomini non importa e quindi aveva questa idea diciamo così di fare una saga familiare al femminile che però era noiosissima le foto stesse erano piuttosto noiose era tutta una roba del come erano bravi i miei nonni che si sono fatti da soli anzi mia nonna per non parlare di mia zia che eccetera mi ero veramente rotto le scatole e gli ho detto senta lasciamo perdere per adesso il romanzo che lei vuole scrivere eccetera mi dice mi fa due pagine in cui lei mi dice le ragioni che ha di odiare il suo paese il suo paesino delle Marche ma come lei si provi lo faccia come esercizio lei per una settimana non è venuta cioè non è apparsa sullo schermo la settimana dopo mi aveva mandato dei testi che cominciava così io odio questo paesino perché lì nessuno sa che sono lesbica ah dico beh parliamone è successo naturalmente che alla fine ha buttato via tutta la storia della saga familiare ha cominciato a scrivere una storia di lei e di come si presenta in questo paese e del perché non voleva parlarne con i genitori eccetera non so che cosa sia diventato perché alla fine non ho visto niente di finito da parte sua però ho avuto la netta sensazione lei poi me l'ha anche scritto dicendo guardi questa cosa mi ha aiutato molto ho avuto la netta sensazione che lei fosse partita da un perché sbagliato e fosse arrivato a un perché giusto quindi a proposito del perché credo che effettivamente una delle cose che si può fare con i giovani e di aiutarli che vogliono scrivere oltre a dire se puoi farne a meno o non farlo d'accordo però se poi insistono sia come dire di cambiare il loro perché e quindi fargli trovare un perché che sia più radicato in loro stessi non per appunto per essere se stessi che non è il caso ma per andare a vedere quanti altri ci sono dentro se stessi a proposito di essere lo stessi la battuta di Oscar Wilde non me la posso far scappare adesso sii te stesso tutti gli altri sono già presi vabbè che dire ancora sul perché della letteratura le idee sono tante quelle giuste sono molto molto poche quindi tornerai sull'istante su quell'idea che prima annunciavo della scrittura e della lettura anche come cancellazione non come conservazione che un esempio di pratica diciamo così che mi fu suggerita qualche anno fa da una terapeuta che mi vedeva appunto un po' gonfio gonfio di avvenimenti di cose di ricordi di preoccupazioni e mi forse era un po' banale come suggerimento forse si troverebbe anche su un settimanale questo consiglio però insomma io lo applicai funzionava funzionava temporaneamente quello di bruciare le cose cioè prendere ce l'hai un giardino in quell'epoca ce l'avevo prendi le foglie del giardino le foglie secche fai un bel falò e cominciai anche a questo falò a buttarci dietro un po' di roba tua foglie carte documenti fotografie insomma e in effetti devo dire che c'era una grandissima gioia in questo in questo rogo questo rogo del passato questo rogo di ciò che è morto e cosa che poi ho trovato di nuovo annunciata insomma in una affermazione di quello che da allora è diventato poi il mio guru il mio maestro degli ultimi anni e cioè lo stilista Karl Lagerfeld che in un documentario bellissimo vi consiglio di vederlo dove lui racconta le sue collezioni ridisegnandole quindi camera fissa lui al tavolino che disegna con le matite del trucco e l'ombretti costosissimi le sue vecchie collezioni però si vede che dopo mezz'ora che stava a disegnare le cose si comincia un po' a innervosirsi perché sta sempre parlando del passato e questo intervistatore continua a chiedergli e poi la sua collezione dell'80 e quella dell'85 e quella finché lui sbotta e dice l'interessante non è aver fatto l'interessante è fare e anche questo io l'ho preso come slogan che vorrebbe diciamo così aiutarmi in questa fase della vita però effettivamente è esattamente quello a cui la letteratura ti costringe in questo caso sto parlando da scrittore cioè hai finito il libro hai fatto quello adesso per esempio io ho finito un libro ma io non ci sto veramente sono costretto a pensarci ancora perché mi chiedono le cose faccio le presentazioni però io sono vorrei essere liberato dal libro che ho scritto vorrei che mi sganciassero come un cane alla catena che viene scatenato perché vorrei riuscire a fare ancora e penso che questa cosa sia veramente anche molto forte nell'esperienza sia dello scrivere che del leggere cioè ancora un altro ne voglio leggere un altro ne voglio scrivere un altro voglio andare oltre quello io ultimamente mi sono rifiutato varie volte di rispondere alla domanda al questionario che viene sempre posto qual è il libro che ti ha cambiato la vita no non c'è il libro che mi ha cambiato la vita se ci fosse un libro che mi ha cambiato la vita è molto probabile che quel libro sarebbe il Mein Kampf c'è quelli la cui vita cambia perché leggono un libro sono quelli che gliela cambia il Mein Kampf per tutti gli altri questo cambiamento è incessante e ce ne sarà sempre un altro che ti cambierà il Mein Kampf o il Vangelo il Vangelo il Mein Kampf cegliete voi il libro che cambia la vita ma se te la fai cambiare da un libro ho paura che diventerai un fanatico e basta o meglio che eri un vuoto destinato a essere riempito da una verità quando invece i libri sono i libri le letture sono a mio avviso delle continue approssimazioni cioè un avvicinamento c'è una bellissima verso del poeta americano John Ashbery che parla del faro come ciò che allontanando protegge e io penso che la letteratura talvolta abbia quello scopo cioè di tenere come ce l'ha per esempio nel mito il mito la favola il mito servono essenzialmente a indicare la cosa da cui se vuoi sopravvivere devi tenerti alla larga per esempio il fatto che gli uomini è meglio che si tengano alla larga dagli dèi perché quando vanno troppo vicini succede il casino muoiono bruciati questo però mi fa venire in mente una cosa un altro perché secondo me è sbagliato che riguarda gli scrittori e non i lettori cioè che tu scrivi perché lo hai già fatto cioè come se ci fosse a un certo punto una specie di obbligo che non è solo editoriale è anche interno a dire oddio sono tre anni che non scrivo niente adesso devo scrivere il libro nuovo certo allora questo effettivamente ti fa poi correre il rischio del manierismo cioè a un certo punto scrivi alla te stesso che è una cosa pessima diciamo così per provare a non fare quello cioè a scrivere dei libri che siano effettivamente il meno possibile una specie di copia dei libri precedenti fermo restando che uno scrive sempre lo stesso libro però non lo devi sapere cioè ti deve arrivare dopo devono essere gli altri che ti dicono guarda che hai scritto sempre lo stesso libro per te deve essere un libro nuovo davvero io ho l'impressione che effettivamente il discorso che tu facevi adesso del fare piazza pulita sia fondamentale cioè tu arrivi a scrivere un libro nuovo solo quando sei strastufo di tutto il pieno che c'è intorno cioè se hai scritto mettiamo per due anni solo articoli di giornale pamflet cose critiche hai fatto l'insegnante eccetera eccetera a un certo punto arrivi che dici beh adesso basta questa cosa davvero io non posso continuare a farla e quindi è come se di nuovo tu avessi bisogno di ripulirti io vabbè un'esperienza personale che forse non vuol dire niente ma mi sono trovato inguaiato nel corso della mia vita con un amore di quelli impossibili per cui ti dici non posso vivere con lui ma non posso vivere soprattutto senza di lui e quindi cosa faccio sto al quinto piano beh è abbastanza facile salto da finestra siamo a posto mentre stavo per farlo mi è venuto in mente fortunatamente di telefonare all'unico amico vero che ho sempre avuto che purtroppo adesso non c'è più erano le quattro meno un quarto della notte e lui mi ha detto solo ti aspetto non mi ha neanche detto che cosa c'è quando ho sentito la mia voce abbiamo parlato a lungo poi quella notte quella mattina e lui mi ha detto una cosa che mi hai ricordato tu pensando prima parlando prima del bruciare mi ha detto c'è una cosa a cui tieni veramente in casa un soprammobile una cosa per te molto importante sì c'era effettivamente mi ha detto adesso la prendi e dal quinto piano ci butti quella stando attento che non colpisca nessuno cosa che ho fatto è stato duissimo ma quell'amore disperato in realtà alla fine ha prodotto quattro o cinque romanzi e credo che senza quella specie di cosa lì non sarebbe successo niente quindi effettivamente è vero che certe volte come dire la scrittura parte da un vuoto non è vero neanche quando dicono sono talmente pieno di questa cosa che la devo dire per forza se sei talmente pieno non va bene appunto perché sei pieno dei tuoi appunti mentali o materiali prima te ne devi svuotare devi appunto essere di nuovo devi essere una tabula rasa un recipiente vuoto e allora lì poi vengono le parole quelle vere e quindi questa cosa qua dello svuotarsi penso che sia importante per scrivere beh c'è una bellissima poesia di Bertolt Brecht che dice è una delle tre poesie che so a memoria che dice se per tempo entro nel vuoto dal vuoto ritorno pieno quando frequento il nulla so di nuovo quello che devo se io amo se io sento è certo che mi loguro ma poi immerso nel freddo ecco a vampo di nuovo ed è proprio credo una poesia quasi giapponese nella sua semplicità è esattamente quello di cui parlavi però mi ha fatto venire il tuo discorso della telefonata all'amico un aneddoto esemplare su questo bisogno di aiuto in questo caso nella parola che si rivolge a un amico che ho letto della vita di Camus che un prossimo alla disperazione telefonò a Renesciare andò a casa sua e insieme mangiando prosciutto affettando prosciutto arrivarono alla fine della notte alla fine della crisi superandola superando questa nottata difficile no l'amico la parola il prosciutto tre cose che che ti salvano la vita in questo caso e mi ha fatto pensare che ce l'avevo la risposta al perché fin dall'inizio ma era era così semplice che non la vedevo e cioè che serve a passare il tempo sostanzialmente certo a passarlo utilmente diciamo a passarlo e già all'averlo passato vedere diciamo l'alba come nel caso dei due scrittori passare il tempo anche la d'Urso va bene no? sì ma infatti la d'Urso appartiene è la stessa cosa però no non dico che sia la stessa cosa ma il perché è il medesimo forse forse pensaci visto che poi a te la d'Urso piace tantissimo no no certo certo abbiamo passato il tempo insieme infatti chiedevo c'è tempo ancora per qualche domanda oppure no? una signorina aveva detto che ci avrebbe fatto dei segnali ma non ce li ha fatti perché siete stati bravissimi ah ecco come faccio allora intanto complimenti interessantissimo io avevo assistito ad un dialogo simile tra Walter City e Michele Mare al Salone del Libro di Torino il tema era analogo e allora vi voglio se lo ricorda però in quel caso eravate in contrapposizione quindi la mia domanda nasce da quella vostra contrapposizione allora ci sono due frasi che sono vengono attribuite a Philip Roth che sono apparentemente in antitesi una di queste frasi attribuite a Roth dice la letteratura è soltanto una lunga lettera a se stessi e un'altra frase sempre attribuita a Roth dice la letteratura scava nelle ferite del mondo e della storia allora io ricordo di quel dialogo tra City e Mari che Walter City sosteneva che l'autore di letteratura fosse uno speleologo uno speleologo che dovesse scavare appunto nelle ferite del mondo e la storia e nello stesso tempo sappiamo che Roth ha fatto entrambe queste cose nella sua opera complessa e volevo sapere appunto come se lei confermava questa sua posizione e se Albinati mi interessava anche sapere da quale parte stessa se dalla lunga lettera a se stessi o sullo speleologo che scava ma intanto sì me lo ricordo l'immagine dello speleologo purtroppo non è mia è di Vittorio Gou che a un certo punto appunto dice lo scrittore come un minatore che va a scavare sotto nelle gallerie eccetera il rive des accidents là-bas cioè laggiù succedono dei guai però adesso non so bene Mari cosa dicesse in questo momento non me lo ricordo sì sì certo senti da che pulpito no fa solo letteratura sulla letteratura vabbè no diciamo in realtà credo che davvero le due cose però vadano assolutamente insieme proprio per una ragione che dicevamo prima cioè perché laggiù non c'è un me stesso solo c'è davvero un'enorme quantità di cose e allora una lunga lettera a se stesso non può essere fatta se non attraversando la varietà del mondo nell'episodio che ho raccontato prima quello della statua di gesso che ho buttato dalla finestra del quinto piano mi sono dimenticato di dire una cosa che però c'entra proprio con la domanda neanche a fare la posta che mi ha fatto lei adesso quando poi sono andato da questo amico abbiamo chiacchierato lui a un certo punto mi ha detto usciamo non erano neanche le sei tu sei un pazzo non hai aperto niente usciamo usciamo siamo scesi era il quartiere Trieste appunto anzi no il quartiere africano era deserto in quel momento e lui ha cominciato a dirmi ma facendo il nome della persona che mi aveva messo in quello stato come cammina fammi vedere come cammina fammi vedere come tiene le spalle cioè mi portava lui ha fatto teatro per molti anni mi portava a mimarlo allora effettivamente io penso che fare vuoto dentro di sé e imitare però le persone che ti hanno dato dolore siano due cose che vanno assolutamente insieme per cui appunto la lettera a se stesso è come quando tu dici che cavolo c'hai dentro cos'è che vuoi tirare fuori però non lo puoi fare se non imitando il mondo in qualche modo perché è il mondo che ti ha creato quello che ti ha fatto diventare quello che sei io non potrei raccontare niente di intimo di mio se non metto di mezzo almeno mio padre mia madre mia sorella le persone che ho amato perfino gli odi politici che ho avuto cioè sono due cose che vanno assolutamente insieme penso beh no io la lettera a me stesso francamente no perché non scriverei mai troverei molto noioso sia scriverla che leggerla una lettera a me stesso preferirei pensare a una lettera a nessuno perché non posso neanche pensare a un destinatario mi viene in mente visto che stiamo andando avanti a colpi di citazioni una cosa molto divertente che scriveva in una sua lettera Flannery O'Connor la quale diceva di aver lavorato alla macchina da scrivere qualche ora e poi di essere stanca di parlare di persone che non esistono a persone che non esistono che è un'ottima definizione sia dei personaggi che dei lettori però è anche la condizione ideale tu non stai parlando a nessuno per questo non stai neanche parlando a te stesso perché parlare con se stessi e lo sappiamo dalle autobiografie comporta una quantità di censure immense è proprio quello che puoi dire le cose proibite perché sei nessuno che parla a nessuno esatto e torno a quel concetto dell'interposta persona che è veramente il viatico l'escamotage per poter leggere sia leggere che scrivere cioè non siamo noi non siamo noi i personaggi dei libri possiamo scrivere spesso se ci serviamo di intermediari e addossiamo a loro le vicende le storie le idee invece quando si sta parlando a se stessi o di se stessi diventa molto più difficile e può essere anche paradossalmente molto insincero cioè la sincerità si raggiunge quando noi non guardiamo in faccia l'altro io anche un'altra cosa che mi spaventa molto è questa ossessione del dialogo ma il dialogo frena perché quando tu hai una persona in carne e ossa davanti a te sei capace veramente di dirgli tutto dici il dialogo in realtà non il dialogo nei libri no no parlo del dialogo umano questo fatto del guardiamoci in faccia dialoghiamo ma così è molto difficile far emergere qualcosa per questo anche trovo così meraviglioso e anche lo è narrativamente il telefono perché il telefono almeno ti priva di quella diciamo immediatezza che frena la verità frena la sincerità bellissimo episodio del signor umano di Joshua dove ci sente soltanto una voce e l'altro non si sente per niente esatto ultimissima cosa che volevo dire che questa cosa qui è anche almeno io così l'ho sperimentato è anche ti indica che c'è qualche cosa di falso nell'autobiografia io l'ho praticata per molti anni però se è vero quello che dicevo all'inizio cioè che devi anche tirare fuori delle cose che tu non sai perché stanno nel tuo inconscio finché tu dici io quelle cose lì per l'appunto non le sai cioè dicendo io tu non le puoi raccontare perché l'io non le sa e quindi puoi farlo solo attraverso dei come dire dei cascatori come si chiamano al cinema degli stuntmen che fanno per te le scene pericolose perché se no non ce la fai non le sa pericolose Grazie.